E' risultata sedicesima nella graduatoria nazionale tra le 271 proposte di finanziamento del programma nazionale della qualità dell'abitare, pinca del Ministero per le infrastrutture e la mobilità sostenibile, la proposta progettuale presentata al bando tramite la regione Abruzzo, dal comune di Silvi, quale capofila dei comuni di Montesilvano, Atri, Pineto e Città Sant'Angelo. Un gran progetto che va verso il risparmio del suolo e quindi la riqualificazione urbanistica e tutti i palazzi antichi da ristrutturare e mettere a disposizione del sociale. Ci si è lavorato tanto, è stato un bel successo, io penso che si possa cominciare a parlare di un piano strategico tra i comuni limitrofi, per cominciare a coordinare, ogni comune ha la sua caratteristica, ogni comune porta avanti le sue idee sul sociale, sulla viabilità e sul recupero delle aree degradate. Tre le opere per le quali l'amministrazione comune di Silvi ha ottenuto il finanziamento complessivo di 4 milioni e 200 mila euro. Il più importante è l'intervento di recupero del villaggio del Fanciullo, con la realizzazione, negli immobili esistenti, strutture socializzanti al servizio dei cittadini, quale il Museo del Mare, l'Ufficio Informazioni Turistiche, la Biblioteca, la Sala di Consulenze, una Sala Conferenza e l'Anfiteatro all'Aperto. Il finanziamento concesso per quest'opera è di circa 2 milioni e 500 mila euro. La seconda opera, finanziata per un importo di un milione di euro, riguarda la realizzazione di un sottopasso carrabile di connessione della Statale 16 alla piazzetta di Viale della Repubblica della linea Bologna-Lecce, che farà, in qualche modo, mettere fino al disagio causato dalla chiusura da parte di RFI del passaggio a livello di rampa a fiume. La terza opera ammessa a finanziamento riguarda la realizzazione della strada pedonale sull'arenile demagnale marittimo localizzato sul lungomare nel tratto compreso tra via Garibaldi e piazza Colombo. Il tracciato, in via di Massima, sarà posizionato sull'area demagnale in zona normata dal PRG viabilità pedonale. La cittadinanza è tanto tempo che aspetta questa cosa. Adesso ci sono proprio oltre 2 milioni di euro dedicati a questa cosa a scopo sociale. Niente da dire alla passeggiata a mare che vorremmo fare per dare un'alternativa a un viale che non si affaccia sull'arenile oppure il rifacimento del sottopasso che è stato soppresso a cause forse maggiore di alta velocità dove si tolgono tutti i passaggi a livelli da rifare al centro, cosa molto importante per la viabilità a Silvarola. Noi dobbiamo cercare di aumentare i servizi ai cittadini. Una città che ha più servizi, è più vivibile, è più vicino al cittadino, si affianca sicuramente anche più al turismo.